Un'informativa della Polizia Giudiziaria fa emergere uno spaccato allarmante. Nella mobilità passiva per diagnosi PET, diagnostica PET quindi per evidenziare i tumori, cittadini abruzzesi che si recono presso regioni limitrofe usufruiscono di servizi PET e in aggiunta di servizi TAC. Cosa comporta questo? La PET già all'interno condiene il servizio TAC e quindi sarebbe una cura inappropriata. Queste TAC aggiuntive che hanno fatto fare ai cittadini che andavano per sottoporsi alla PET hanno comportato un esborso maggiore, ulteriore per le casse della Regione Abruzzo e solo per un anno, sempre dall'informativa della Polizia Giudiziaria emerge, che abbiamo dovuto pagare circa 256.000 euro in più. Ora questa informativa è stata trasmessa alla Regione Abruzzo circa un anno fa e io voglio capire, farò un'interpellanza regionale al Presidente della Regione Abruzzo per capire quali interventi sono stati assunti, se ci sono stati dirigenti, funzionari, direttori che dovevano vigilare sulla proprietà di questi servizi, di queste prestazioni sanitarie e non hanno vigilato e cosa si intende fare oggi. Sempre a riguardo della sanità, però spostandoci nell'ASL di Pescara, torniamo adesso a parlare di una vicenda di cui si era già occupato il Movimento 5 Stelle, cioè quella del tomografo PET in affitto. L'ASL di Pescara ha messo in campo un bando di gara per acquistare questo macchinario, però che cosa è successo? Finalmente c'è una gara per acquistare questo macchinario che in affitto ci costa 4.650 euro al giorno, come abbiamo denunciato più volte. Ma abbiamo scoperto che nella gara manca un elemento determinante per far funzionare poi il sistema. L'elemento si chiama cella di manipolazione delle sostanze radiattive, cioè quella cella dove viene preparato il radiofarmaco e viene iniettato al paziente. Ora noi diciamo che se sarà o verrà giudicata la gara senza questo pezzo, questa cella di manipolazione, il sistema un domani non potrà mai funzionare, quindi magari un domani ci potremo accorgere che saremo costretti ancora a tenerci forse, forse dico la PET in locazione. Ebbene oggi noi abbiamo scoperto questa cosa, sicuramente si tratterà di un errore, di una manganza, non voglio pensare ad altro, lo stiamo comunicando, mi auguro che prenderanno le misure di precauzione.